Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, buon inizio di settimana. Questo inizio di settimana lo inauguriamo facendo un attimino il punto della situazione su delle domande che tanti di voi, soprattutto dalla chart informativa di Telegram, mi hanno fatto relativamente ai nostri servizi. Io personalmente vedo tante aspettative quando si entra a contatto con noi per la prima volta, così naturalmente come le vedo anche quando le persone entrano a contatto con servizi diversi. Quello che mi preme di dirvi è che i nostri servizi sono dei percorsi, nel senso che non potete aspettarvi che i 100, i 500, i 1000, i 5, i 10.000 euro che mettete a disposizione seguendo i nostri servizi vi diano naturalmente dei milioni subito, nel giro di una settimana, 10 giorni, un mese, quello che sia. Tutto ciò non è possibile e la massa, questo naturalmente lo vedo dalle domande che mi fate, dalle telefonate che mi fate appunto per chiedere più informazioni, vedo appunto delle domande completamente sbagliate. Quello che mi preme dirvi è che dovete pensare ai servizi Best Team Investment, quindi che sia l'University di Daniele con il trading finanziario, tutto ciò che riguarda il betting, la University, il trading sportivo, come un vero e proprio percorso. Tanti dicono, io sono il primo a dire che l'Università non serve assolutamente per fare soldi perché naturalmente i soldi li fate seguendo le persone che già li hanno fatti e che già hanno naturalmente avuto delle esperienze non solo positive ma soprattutto quelle negative durante il percorso. Quindi seguendo, naturalmente noi siamo i primi ad averle superate quelle esperienze. Quindi la cosa importante è naturalmente entrare in contatto con le persone giuste che vi guidano nel farvi evitare determinati errori. Quindi questo è fondamentalissimo. E naturalmente la cosa importantissima che dovete mettervi nella testa è che quello che voi investite in qualsiasi percorso che decidiate di fare fate conto che non esista più, fate conto che sia veramente un investimento per imparare delle cose che poi vi servono, naturalmente vi serviranno nel futuro per fare soldi veri e naturalmente trarre dei vantaggi in termini non solo monetari ma anche di tempo da determinate situazioni, da determinati servizi. Quindi ok le aspettative alte, però non fate sì che queste aspettative vengano solamente improntate nel medio breve termine perché questo non è assolutamente possibile. Oggi fare soldi è veramente molto 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 difficile. Noi ci riusciamo, vi aiutiamo naturalmente a vi insegniamo una, due, tre attività che vi permettono naturalmente di fare tutto ciò, però dovete avere il mindset di essere appunto molto diciamo soft all'inizio, nel senso abbiate pazienza oltre che naturalmente ovviamente fiducia nelle persone che seguite. A tale scopo farò un bel video dove vi parlerò appunto degli investimenti in genere iniziando a parlare di cosa vuol dire non investire. Quindi partiremo proprio dall'opposto di quello che uno pensa di poter intraprendere quando entra a contatto con Best Team Investment o quando entra a contatto con un qualsiasi altro tipo di servizio similare, migliore, peggiore che esso sia. A tal proposito, ho usato le parole sbagliate, non esistono servizi migliori e servizi peggiori. Esistono naturalmente, parliamo del settore in cui operiamo noi, esistono servizi differenti che possono naturalmente influire positivamente o negativamente sulla situazione economico-finanziare di una persona. Quindi chiaramente state lontani da chi vi propone 2, 3, 10% al giorno o cose del genere perché sono veramente quelli dei settori rischiosissimi in cui si propone di entrare e che non vi portano assolutamente a nulla. I soldi si fanno guardando nel lungo termine, ma di questo ne parleremo appunto nel video abbastanza lungo in cui vi parlerò appunto del mondo degli investimenti, vi farò anche degli esempi su come io mi sono mosso negli ultimi anni e quant'altro. Sto preparando gli ultimi appunti per farvi questo video, quantomeno per avere una scaletta da seguire e per cercare di tenervi sull'attenti quanti più secondi possibili durante il video. Vi auguro un buon fine settimana, come sempre nella descrizione trovate i nostri social con il nostro sito internet e per qualsiasi cosa, per qualsiasi tipo di informazione potete contattare me o il mio socio Daniele che come sapete si occupa full time di trading finanziario, sta sviluppando ulteriori sistemi anche di natura semi-automatica, automatica, abbiamo anche attivissimo il Surfbot che settimanalmente sta dando dei profitti, anche lì lungimiranza nel lungo termine, quindi non pensate di investire 1000 euro ed averne il giorno dopo 2000, tutto questo non è possibile, così come anche dopo un mese, questo non è fattibile, nel senso che si può fare una cosa del genere un mese, però poi non è replicabile costantemente, quindi abbiate pazienza e fiducia nelle persone che mi seguite. Io vi abbraccio forte, vi auguro ancora un buonissimo inizio di settimana, ci apprestiamo a chiudere questo mese di aprile che si preannuncia smagliante, ancora una volta, sotto il profilo dei risultati e buona giornata. Ciao a tutti da Fabio, Daniele e tutto lo staff di Best Team Investment. Ciao!